Dopo due anni di percorso formativo ho acquisito le competenze per gestire l'ospitalità in strutture ricettive a bordo di una vita crociera e presso tour operator specialità. Grazie ad una progettazione formativa creata ad hoc ho incrementato importanti hard e soft skill che mi indirizzeranno verso un immediato inserimento nel mondo del mondo. Siamo entrati nel vivo della compagnia Costa Crociere. Mediante professionisti siamo stati introdotti in contesti di lavoro interculturale. Laboratori, team working group, role play. Sono solo alcuni dei variegati strumenti messi in campo dagli esperti di Costa Crociere per allenare le nostre attitudini in vista dell'imminente stagio a bordo delle loro navi. Non ci resta che imbarcare, non vediamo l'ora che ciò accada. In modo da poter mettere in pratica le competenze acquisite.